Pescara molto attivo sul mercato nelle ultime ore. Dalla Juventus e dalla Fiorentina sono arrivati il centrocampista 21enne Pelpire, il portiere 24enne Fiorillo e il centrocampista Lorenzo Venuti, attualmente Venuti e convalescente per un'operazione al ginocchio. Bisognerà invece ancora attendere per il ganese Ashong. Intanto in città è atteso per le prossime ore l'islandese Bikir Bjarnason che farà le visite mediche. Dopo raggiungerà la squadra a Boario dove il Pescara resterà fino al 28 luglio, quindi 48 ore di stop prima di andare di nuovo in ritiro nella vicina Atri. A Boario il Pescara giocherà due michevoli, una con una selezione dilettantistica locale e l'altra con il Lumezzane. Andrea Scogli, prime impressioni di questo ritiro con il Pescara? Si lavora molto duramente, mi trovo benissimo, piano piano sto diciamo prendendo il ritmo perché in C c'è un altro ritmo, però piano piano mi sto calando nell'ambiente. Mister Baroni, come ti è sembrato? A prima impressione ha fatto una buona impressione, ancora ci conosciamo benissimo però mi ha fatto una grandissima impressione. Nella prima sgambata, quella col Pizzo Ferrato, ti ha dato fiducia e ti ha messo subito nell'undici titolare, eri un po' emozionato? No dai, sì però sono contento che mi ha dato questa opportunità, spero di averne altre. Dimmi un po' quali sono le tue caratteristiche? A me piace molto spingere, sono uno che mi piace molto la fase offensiva, però mi ricordo che sono difensore quindi faccio entrambe le cose. Un pregio e un difetto tecnico? Forse vado troppo avanti. Quindi sia il pregio che il difetto. Sì. Invece caratterialmente come sei? Sono molto tranquillo, sono un ragazzo semplice. Che cosa ti piace fare fuori dal calcio? Faccio una vita tranquilla, diciamo niente di che, mi piace riposarmi, leggere. Pescara è una piazza molto calda, tu sei del sud e quindi sicuramente troverai terreno fertile. Hai mai sentito parlare della tifoseria pescherese? Sì, sì, già lo so che è una piazza molto importante, i tifosi sono diciamo molto calorosi, come d'altronde io ho giocato al sud e anche al sud sono molto calorosi. Però qui ho visto anche qualche partita in televisione, quindi c'è un gran pubblico. Senti, per quanto riguarda i tuoi nuovi compagni di squadra, c'è qualcuno con cui hai trovato già un feeling particolare? Ma sinceramente con tutti, sono dei ragazzi molto bravi, mi hanno subito accolto benissimo. Chi è quello più pazzarello, quello che fa più scherzi? Cutolo, a prima impressione, però sono tutti bravi ragazzi, mi hanno accolto benissimo. Senti, invece parliamo un po' di te, tu come nasci, da dove arrivi, dove hai iniziato a giocare? Allora, io ho 17 anni, ho giocato in C2, ho fatto 5 anni di C2 e C1, diciamo sono un giovane però con tanta esperienza, dato che è da 5 anni che gioco in C1 e in C2. E questa esperienza invece che stai per iniziare in Serie B, è un'opportunità, un trampolone di lancio, che cosa rappresenta per te? La Serie B è tutta un'altra cosa, spero di restare e far parte di questo gruppo e di avere le mie occasioni di giocarme alla grande. Quando ti hanno detto il Pescara ti vuole, che cosa hai pensato? Che avevano sbagliato numero oppure eri felice? No, no, ero molto felice, ho fatto subito la risoluzione del contratto all'Aquila, perché poi ho diminuito pure il contratto, però è un'occasione che secondo me era da fare, da prendere al volo.